Bentornati amici, oggi voglio condividere con voi questa chicca pazzesca, veramente fenomenale. Ho iniziato a registrare il video e non avevo collegato il microfono. È mattina presto e insomma capita a tutti. Bene ma eccoci qui, adesso il microfono è collegato quindi non ho più scuse. Parliamo di un servizio fotografico che ho svolto nei pressi di Verona e adesso andiamo a scoprire qualcosina di più. Voglio cominciare in questi video a parlarvi non solo di quello che è il cliente, è una cosa che colpevolmente avrei dovuto fare dall'inizio ma mi viene in mente adesso. Quindi senza dolo ma comincio a farla soltanto adesso. Un conto è parlarvi del cliente, è buon amen, si parla del cliente, vi dico chi è e va bene così. Ma è importante secondo me dirvi anche come è stato acquisito il cliente. In questo caso il cliente è una catena di negozi di arredamento che apre un nuovo punto vendita, è una catena che era già cliente storico dell'agenzia web per cui io lavoro. Quindi l'agenzia web LUTREG di Milano. Per cui il cliente non viene acquisito in questo caso, è un cliente che c'è già e semplicemente che aprendo un nuovo punto vendita si fa vivo, bussa alla nostra porta per chiedere un servizio fotografico. Come vi dicevo lo scopo del servizio fotografico è proprio questo, viene aperto un nuovo negozio e quindi nel momento in cui si apre un nuovo negozio servono le foto per metterle su Google My Business, per metterle sui social Facebook, Instagram, sito eccetera eccetera. Per cui si parte da Milano, bella macchinina, si va fino a Verona, un viaggetto di due ore con Spotify a palla. Ora lo shooting come si svolge. Per chi ha seguito tutti i miei video sul diario del fotografo fin dall'inizio questo potrebbe risultare un po' ripetitivo perché fondamentalmente è la stessa cosa. Si lavora con il cavalletto, quindi belli tranquilli, in serenità, si fa la nostra inquadratura. Quando si lavora in un ambito come questo devo dire che io di solito faccio l'aggiustamento del cavalletto sostanzialmente una volta sola perché sono in un negozio dove bene o male l'allestimento è sempre uguale, nel senso che l'altezza del prodotto che vado a fotografare è sempre quella. Cioè è difficile che ci sia, in questo caso si tratta di cucina, è difficile che ci sia una cucina alta 90 cm e una cucina alta 3 metri. Cioè siamo sempre lì più o meno come misure. Quindi una volta che io ho fatto l'inquadratura una volta poi posso andare in giro liberamente per tutto lo store e più o meno rimane uguale. Quindi devo dire che una volta che ho impostato il cavalletto una volta poi non ho bisogno di rimpostarlo spesso, salvo proprio casi rari. Quindi impostiamo bene il nostro cavalletto, mettiamo la camera in maniera tale che le linee verticali siano perfettamente dritte o quasi, cerchiamo di avvicinarci il più possibile così abbiamo meno lavoro da fare dopo in post. Se riusciamo ad azzeccare l'alzo facciamo tutte le foto perfette e non le dobbiamo toccare più, facciamo esporta tutte e via. Non è sufficiente fare esporta tutte nel mio caso perché oltre a lavorare col cavalletto, oltre a fare le esposizioni lunghe, perché comunque siamo al chiuso, un piano era sopra ma un piano era interrato, quindi in uno dei due piani c'era molta meno luce. Negozio nuovo illuminato bene, quindi non era un vero problema, però comunque una posa di tre secondi gliel'ho dovuta fare. Quindi cavalletto obbligatorio per lavorare a ISO 100 per dargli la qualità maggiore possibile, come sempre. Ovviamente bracketing perché così riesco ad avere, sapete, quella pasta migliore che voglio dare al mio cliente. Facendo questo tipo di lavoro può anche essere che il cliente un bel momento dica mi sono stufato, le faccio fare a mio cugino. Però sapete cosa succede? Falle fare a tuo cugino, poi vedi tuo cugino che lavoro bello ti fa perché le fa a mano a ISO 6400, la volta dopo richiami me. E' matematico, è per questo che insisto su questa roba, perché se le facciamo bene tu prova a farle fare da un altro, vedi cosa ti tira fuori. Dunque si è trattato di uno shooting esclusivamente di interni, quindi interni ed esterni perché è stata fatta anche la facciata per far vedere l'insegna sulla strada, quindi è tutto nuovo, è stato scattato anche l'esterno, però fondamentalmente uno shooting di interni. Le foto d'esterno, ve lo dico, le ho fatte a mano, senza cavalletto, senza niente, senza bracketing, ISO 100, F8 e tempi di scatto regolati alla bisogna per fare lo scatto come doveva essere fatto. Non mi ricordo che tempi ho usato, ma sarà stato un ottantesimo, tanto è una scena statica. Quella era la roba più easy. Mentre per quanto riguarda le foto di interni, bracketing HDR con cavalletto, scatto remoto, ovviamente occhio al parquet perché c'è sempre il parquet in questi store o lo fanno apposta, c'è sempre il parquet, quindi significa che appena tocchi un asse il cavalletto si può muovere e ti rovina il bracketing, questo bisogna stare attenti. Per il resto è un shooting abbastanza semplice per cui ho utilizzato la Canon 5D Mark II, mi trovo benissimo. L'unica pecca volendo di questa camera nel bracketing è che consente il bracketing fino a due stop, con le camere più moderne ce l'ho fino a tre stop, insomma ogni tanto serve. Non era questo il caso, in questo caso non mi serviva, non l'avrei probabilmente usato comunque, perché tre stop è tanto, il più delle volte è troppo, quindi due va bene. Diciamo che, sapete quando vedi che sei arrivato al limite e dici ma mi piacerebbe averne un po' di più, che poi non lo usi, però ti piace averne un po' di più, insomma c'ho quella sensazione lì. Tanto il shooting è andato benissimo, quindi ormai è fatta così. Vengono realizzate anche le foto 360, non è una cosa, vi dico la verità, la foto 360 ha un po' fallito secondo me, nel senso che quando è venuta fuori ah che figata il 360, la foto immersiva, bellissimo il virtual tour, ragazzi non lo caga nessuno, non ve la guarda più nessuno quella roba lì, ha fatto già il suo tempo, ce la siamo già dimenticata, le costosissime camere necessarie per realizzarla o i procedimenti dispendiosissimi in termini di tempo per realizzarle con una reflex, quindi comprare una lente apposta, comprare la testa rotante apposta per fare quella roba lì con lo stitching, software aggiuntivi, palle varie, è una roba che ha toppato alla grande, ha fallito completamente, nel senso che nessuno la chiede più e nessuno la offre più, perché è una roba che non serve più a niente. Oltretutto non sono belle foto, perché non sono belle, cioè sono foto in cui non ci sono le linee dritte, non si può fare quasi niente, si può fare poca post perché sono tutte curvate, non si può correggere nulla, non sono camere di qualità la maggior parte delle volte, quindi sono delle camerine con sensori piccoli, non si può fare chissà cosa di post, però siccome ormai io sono un fotografo certificato Google per la fotografia 360 per Street View, è una roba in più che offriamo, quindi stiamo usando una camera fatta apposta per fare fotografia 360, così mi evito di dovermi fare ore di post per fare lo stitching o di dover pagare software aggiuntivi o di dover appaltare a qualcun altro, quindi usiamo una camera già fatta apposta, già dedicata a questo, abbiamo fatto le foto 360 di tutto lo store per poi poter realizzare il virtual tour da mettere su Street View, su Google o anche su Facebook, perché sapete, la roba carina del foto 360 è che se io prendo una foto 360 e la metto su Facebook, mantiene le proprietà 360, quindi l'utente può scorrerla o girare col cellulare e guardarsi intorno, quindi questo è carino. Ora, difficoltà principali riscontrate, quando io sono arrivato le luci non erano giuste, io ho cominciato dal piano interrato, perché il piano interrato è più facile, perché lì c'è solo luce artificiale, il piano di sopra c'è artificiale più naturale, mista, quindi è più difficile. Parto dal piano sotto, così dico me lo tolgo dai piedi, comincio e mi rendo conto che c'è qualcosa che non mi torna, nel senso che alcune scene sono illuminate in un modo, altre sono più buie, quindi prima difficoltà capirla questa cosa, perché sono andato dal personale che era rimasto al piano di sopra, tic tic sulla spalla e dico scusami. Ma è normale che c'è una cucina, la immagina Wood che è al buio, cioè, e oltretutto era ingannevole, perché questa cucina aveva dei neon sotto ai pensili e sotto comunque alle finiture, aveva dei neon che illuminavano la scena, quindi ho pensato, l'hanno fatto apposta per far vedere i neon, per far vedere questa cosa, quindi è giusto che io la fotografi così? Invece no, perché ok che è carino far vedere i neon, però la luce era spenta per sbaglio, nel senso che non l'avevano accesa, il negozio era appena aperto e non avevano ancora fatto il giro ad accendere le luci. L'importanza di chiedere, perché se io avessi scattato così con la cucina buia, poi avevamo tutto il piano di sotto, che insomma non andava tanto bene, le luci spente non si vedeva un tubo, non dava l'idea giusta dello store, quindi ho fatto venire giù una persona, mi sono fatto accendere le luci e così abbiamo fatto le foto giuste, perché per quanto fosse carino far vedere i neon, cioè i clienti che vengono lì non comprano i neon sotto i pensili, assolutamente, quindi comprano la cucina intera, quindi è importante far vedere, e poi comunque in questo caso era importante far vedere il negozio, quindi questo non mi stancherò mai di ripeterlo, quando ti commissionano uno shooting di interni è inutile fare dettagli del neon della singola cucina, non gli interessa la singola cucina, quella cucina magari la vendono subito e poi non c'è più, e poi ne arriva un modello nuovo con un altro colore che quel dettaglio non ce l'ha, quindi è inutile, a meno che proprio non venga richiesto, è inutile fare foto di dettagli, diverso è se ti commissionano un servizio fotografico magari per fare i saldi, perché lo stesso cliente ogni tanto magari dice faccio i saldi, quindi ho queste cucine in sconto, allora sì che uno va lì e dice va bene, allora io adesso ti faccio i dettagli di quella cucina magari, ti faccio i dettagli dell'anta, ti faccio i dettagli del cassetto, perché è quel pezzo che è in saldo, che è in sconto, perché magari è un modello vecchio che deve essere eliminato per rifare l'assortimento, quindi lo si mette fuori a una cifra inferiore, allora sì che si fanno i foto di dettagli, altrimenti wide, grand'angolo, prevalentemente orizzontali, perché la cucina di solito è a sviluppo orizzontale, che ne so, sto fotografando una bottiglia, sono tutte cose a sviluppo verticale, in quel caso si predilige l'orientamento verticale della fotocamera, ma una cucina di solito si sviluppa in orizzontale, quindi la maggior parte delle foto le ho fatte in orizzontale, ne ho fatte un paio in verticale, laddove c'era una situazione per cui non riuscivo a prenderla in orizzontale, magari c'era una colonna di mezzo che mi dava fastidio, o magari era una cucina molto piccola e non c'era spazio, allora l'ho fatta in verticale, ma era semplicemente un caso. Parlando di post-produzione non c'è un gran che da segnalare, perché come vi dicevo lo store è nuovo di pacca, l'allestimento è nuovo di pacca, quindi non c'era fotoritocco da fare, non c'erano cose da sistemare, non c'erano nemmeno prese nei muri, lampade, cose strane da far sparire, quindi non ho fatto praticamente nulla di post-produzione, se non ovviamente lo sviluppo digitale in Camera Raw, apro le foto, mi seleziono le mie tre foto dei vari bracketing, faccio Alt M, Option M se siete su Mac, che serve per lanciare il Merge to HDR, comando da tastiera, che è molto utile, lo sto usando, cioè non l'ho usato da sempre, perché quando ho iniziato a usare questa tecnica facevo tasto destro, però ho visto che c'è il comando da tastiera, alla fine vi è incomodo, perché così senza andare a fare tasto destro, faccio clic con la mano e immediatamente mi si apre il pannello dell'HDR con cui posso fare il Merge, è molto più comodo, mi fa risparmiare un po' di tempo, segnatevelo, i comandi da tastiera sono importanti, fanno risparmiare tempo, quindi sviluppo HDR con le impostazioni automatiche che il Merge to HDR mi dà automaticamente, però come sempre vado a togliere il contrasto in più che lui mi mette, perché io non lo voglio quel contrasto, scatto HDR per avere una foto low contrast, quindi aggiungere contrasto dopo, è una cosa che potrei volere se fosse una questione artistica, ma qui sto facendo vedere uno store, lo voglio preciso così com'è, quindi non mi interessa avere quel contrasto e anzi non lo voglio, quindi lo levo. L'altra cosa che ho fatto, beh, ho fatto lo sviluppo del digitale normale sulle foto di esterni, perché quelle non le ho fatte in HDR, quindi avevano bisogno di una sistematina, quindi anche lì ho diminuito il contrasto, perché si diminuisce il contrasto in queste cose, lo so che noi siamo abituati da Instagram, che è diseducativo, siamo abituati che prima cosa che fai è contrasto, pam, su contrasto a 100. Sì, certe volte può servire, può essere figo, non dico di no, però nella fotografia professionale quella è proprio l'ultima cosa che vogliamo fare, perché il contrasto toglie dettagli, sì è vero, fa venire fuori di più il nostro soggetto, però toglie dei dettagli, perché brucia le ombre, brucia le luci, quindi non è quello che noi vogliamo, io voglio far vedere tutto in questa foto, c'è anche un altro motivo, tenete conto che in uno shooting generico, magari non è questo il caso, ma in uno shooting generico, se io consegno le foto con tanto contrasto il cliente non le può toccare più, perché ormai i dettagli sono andati. Se io gliela do media, non dico flat, però media, perché comunque le foto che produco io non sono flat, sono a un livello intermedio, però c'è la possibilità di intervenire aggiungendo contrasto, io lascio questa possibilità, perché magari un cliente se le posta su Instagram per i fatti suoi e può aggiungere solo il contrasto, rovinando il mio lavoro, ma vabbè, ognuno fa quello che vuole, un pochino di contrasto si può aggiungere, però se io lo introduco già nelle immagini, poi non si può più togliere, quindi è quello il problema, per questo io tendo a stare molto basso di contrasto, perché poi il contrasto non si toglie più. Veniamo alla consegna del materiale. Le foto non erano tantissime, perché avevamo una ventina di scatti 360 e una settantina di foto finite, quindi non di bracketing, ma di foto finite degli interni. Il negozio aveva sostanzialmente una ventina di cucine all'interno, credo, ma forse anche meno, no, meno di 20. Potrei recuperare il numero, ma alla fine è irrilevante. Comunque alla fine di Tot Cucine sono venuti fuori circa 80 scatti, perché di ogni cucina faccio più angoli, faccio più riprese e faccio anche delle foto globali, in modo da far vedere non solo la singola cucina, ma proprio il negozio, come si distribuisce. Quindi vengono fuori un'ottantina di foto, quindi non sono tantissime, vengono mandate semplicemente via FTP, quindi un semplicissimo WeTransfer e il gioco è fatto. Ma vi rendete conto di come devo lavorare? Saranno le tubature vecchie, sarà... Boh, non lo so. Fatto sta che c'è questo rumore, ogni volta che qualcuno al piano di sopra apre il rubinetto, ma vi rendete conto degli sforzi che io faccio per consegnarvi dopo un video pulito senza tutta questa roba? Eh, veramente... Pensateci. Dicevo, non è che ci sia chissà cosa da dire su questo shooting, se non che scattare un negozio nuovo. A me piace sempre molto, perché intanto ti dà la possibilità di intervenire da subito su quella che è l'immagine di quel negozio. Quindi il negozio si presenta così. È molto bello vedere che un negozio da subito ha un'immagine forte perché utilizza le foto fatte bene, perché altrimenti uscirebbe con due foto fatte dal cellulare, magari fatte anche dagli utenti, perché tipo su Google My Business se io non metto niente ci si ritrova magari le foto dei clienti che vanno in negozio, quindi le foto della sciurapina che fa una foto così ai prodotti mentre è dentro e magari poi Google Maps le dice vuoi caricare le foto, sei stata geolocalizzata lì? Lei dice sì, non capisce nemmeno cosa sta facendo magari e quindi ci si ritrova le foto scattate a caso dagli utenti che compaiono sulla scheda di Google My Business. Ecco, non è mai il massimo della vita perché non è questione che sono peggio delle mie. È ovvio perché io sono stato lì a fare quello ed è il mio lavoro mentre un cliente che va dentro non è che sta pensando a fare il bene del negozio quando fa le foto, quindi è ovvio che sono peggiori. È proprio un discorso di vedere come il negozio si sviluppa da subito anche a partire dall'immagine. Inoltre è anche gratificante perché se abbiamo la scheda Google My Business del cliente in gestione come in questo caso, per esempio a me arrivano le notifiche dei clienti e mi arriva la notifica magari con gratulazioni la tua fotografia ha totalizzato 4.000 visualizzazioni nella prima settimana, cose così. È anche bello vedere che dici ah, quindi forse è anche merito mio se il negozio sta avendo quelle visite perché le foto vengono viste insomma è una cosa in più che fa piacere vedere non vi nascondo che è bello vedere che la fotografia che è stata fatta che è stata scelta come copertina magari ha visualizzazioni tot che viene anche apprezzata cioè è gratificante non ve lo nascondo Parlando di extra a livello fotografico non ho nulla da aggiungere però c'è una chicca che non è fotografica c'è una chicca nel senso che ogni tanto quando si va a fare questi servizi fotografici ci sono dei memorabilia dei collectibles che si possono portare a casa in questo caso trattandosi di un negozio lube a me è stato regalato il grembiule lube da cucina un grembiule bianco semplicissimo che non vi faccio vedere perché non è un try on questo video mi è stato regalato il costume da cucina che userò tantissimo perché quelle quattro volte in cui cucino durante l'anno mi sbrodolo sempre tutto quindi assolutamente lo userò in più mi è stata regalata una confezione di riso targata lube che è stata fatta in collaborazione con Mera5 che è un'azienda che produce riso per cui io ho anche avuto il piacere di lavorare quindi è anche bello vedere quando due tuoi clienti poi alla fine si mettono a collaborare a fare cose insieme e questo è possibile talvolta anche perché posso essere io come può essere un altro mio collega del settore a parlare di un cliente a un altro cliente e poi si sviluppano queste collaborazioni è sempre piacevole vedere quando succedono queste cose perché insomma ti porta sempre a pensare che la somma sia diversa dalle cifre iniziali e quindi si riescono a creare queste sinergie che poi inevitabilmente portano qualcosa di buono non necessariamente per i fotografi ma qualcosa di buono amici siamo arrivati alla fine io a questo punto vi invito a lasciare un like a questo video vi invito a iscrivervi e attivare la campanella perché solo così potrete essere sicuri di non perdervi la prossima Mirabolante uscita a presto su questo canale e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video a presto